Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi spiegherò come trasferire soldi da una carta PostePay al vostro account PayPal in pochi semplici passi. Questo processo può sembrare complicato, ma seguendo attentamente questa guida completa riuscirete a farlo senza problemi. Prima di tutto, è importante sapere che non è possibile trasferire direttamente i fondi da una PostePay a PayPal, ma ci sono metodi alternativi che vi permetteranno di raggiungere lo stesso risultato. Registrazione e collegamento delle carte Iniziamo con il primo passo. Assicuratevi di avere un account PayPal attivo. Se non lo avete già fatto, andate sul sito di PayPal e registratevi. Una volta creato l'account, accedete e aggiungete la vostra carta PostePay. Per fare ciò, cliccate su Portafoglio nella barra superiore, poi su Collega una carta. Inserite i dati della vostra PostePay, il numero della carta, la data di scadenza e il codice CVV. PayPal effettuerà una piccola transazione sulla vostra carta per verificare che sia vostra. Quindi dovrete controllare l'estratto conto della PostePay per trovare il codice di verifica che PayPal vi chiederà di inserire per completare il collegamento. Trasferire soldi da PostePay al conto bancario Una volta che la vostra PostePay è collegata a PayPal, potete procedere con il trasferimento dei soldi. Tuttavia, poiché non è possibile trasferire direttamente i fondi da PostePay a PayPal, dovremo prima spostare i soldi su un conto bancario. Se non avete un conto bancario, potete aprirne uno presso una banca di vostra scelta. Una volta che avete un conto bancario, dovrete collegarlo al vostro account PayPal. Tornate su Portafoglio in PayPal, selezionate Collega un conto bancario e inserite i dati del vostro conto. Trasferimento dei fondi Adesso siete pronti per trasferire i fondi dalla PostePay al conto bancario. Andate sul sito di Poste Italiane o sull'app PostePay, accedete al vostro account e selezionate l'opzione per trasferire i fondi. Inserite l'importo che desiderate trasferire e i dettagli del conto bancario che avete collegato a PayPal. Questo processo può richiedere alcuni giorni lavorativi, quindi abbiate pazienza. Ricarica PayPal dal conto bancario Una volta che i soldi sono stati trasferiti sul vostro conto bancario, potete finalmente spostarli su PayPal. Accedete al vostro account PayPal, andate sul Portafoglio e selezionate il conto bancario che avete collegato. Cliccate su Trasferisci denaro e inserite l'importo che desiderate trasferire dal conto bancario a PayPal. Confermate il trasferimento e attendete che i fondi siano disponibili nel vostro saldo PayPal. Questo passaggio può richiedere uno o due giorni lavorativi. Utilizzare i fondi su PayPal Ora che avete trasferito i soldi su PayPal, potete utilizzare i fondi per fare acquisti online, inviare denaro ad amici e familiari o persino risparmiare per futuri acquisti. PayPal offre molte opzioni flessibili per gestire i vostri soldi in modo sicuro e conveniente. Ricordate sempre di tenere d'occhio le eventuali commissioni applicate durante i trasferimenti, sia da Postepay al conto bancario che dal conto bancario a PayPal, per evitare sorprese. Conclusione Spero che questa guida completa vi sia stata utile per capire come trasferire soldi da Postepay a PayPal. Anche se il processo può sembrare lungo, seguendo questi passaggi passo dopo passo, riuscirete a gestire i vostri fondi in modo efficiente. Se avete domande, lasciatele nei commenti qui sotto e sarò felice di rispondere. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Grazie per aver guardato e alla prossima!